Lo spettacolo del patinaggio artistico internazionale sbarca questo fine settimana all'astronave. Il prossimo 10 e 11 novembre infatti l'Adriatica Arena di Pesaro ospiterà la Coppa del Mondo di Patinaggio Artistico Gruppi Spettacolo. La Federazione Internazionale Sport Rotellistici World Skate infatti guarda a Pesaro e all'Adriatica Arena come a una location ideale per lanciare questa nuova manifestazione a livello internazionale. con l'obiettivo di rendere la tappa pesarese un appuntamento fisso nel panorama mondiale del patinaggio artistico. Insomma un numero zero che parte però molto forte. Sulla pista sono attesi oltre 350 atleti provenienti da Italia, Germania e Spagna che parteciperanno alla competizione insieme a tecnici e familiari accompagnatori per un totale di almeno 1000 persone. Si esibiranno in varie specialità, in gruppi di due, quattro ma anche 30 pattinatori che si muoveranno perfettamente sincronizzati per offrire agli spettatori una coreografia indimenticabile. A fare la parte del leone saranno le donne, anche se molte squadre saranno miste con atleti che vanno dai 12 ai 35 anni. L'ennesima manifestazione che portiamo a Pesaro e che organizziamo noi come Aspes all'interno di un comitato organizzatore locale. L'obiettivo che ci poniamo è come già stato in passato per la ginnastica ritmica di far crescere pian piano eventi legati a questo tipo di sport per potersi candidare nei prossimi anni ad ospitare un campionato del mondo. La manifestazione che ci vedrà impegnati per questo weekend è una manifestazione che vuole rivolgersi al pubblico locale, la città di Pesaro, ma a tutto il territorio. Tante famiglie ci attendiamo con tanti bambini proprio perché è uno sport che si presta dal punto di vista dello spettacolo. Come dicevo, è sport e spettacolo insieme e crediamo che siano in tanti che ci raggiungeranno da tutta Italia e anche da altre parti d'Europa e soprattutto dal nostro territorio. Chiediamo al territorio uno sforzo grande, veniteci a trovare perché sarà veramente bello e la gratuitità è proprio fatta per questo. L'ingresso alla Coppa del Mondo sarà gratuito anche perché l'amministrazione locale punta sul filone degli sport a rotelle per creare un nuovo segmento di mercato turistico che raggiunga Pesaro soprattutto fuori stagione. La federazione ha già scelto Barcellona, il Paraguay e Buenos Aires per i prossimi appuntamenti ma il 2022 dovrebbe essere l'anno giusto per la città di Rossini. Mi è rimasto veramente a bocca aperta per tutti questi mesi di lavoro, per le persone che stanno lavorando, per l'organizzazione, per la pista, per la potenzialità del territorio perché comunque Pesaro è una città che offre tutto quindi alberghi, trasporti e quant'altro. Io penso che ci sia un futuro e un potenziale di rapporto con questa città per quanto riguarda gli eventi sportivi, per quanto riguarda specialmente la mia disciplina che è il partenaggio artistico enorme. Non voglio dire quasi sicuramente però ci sono ottime possibilità che nel 2022 i campionati del mondo di artistico siano qui. Io penso che ci sia un futuro e 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 un futuro.